Peter Sellers era un c... Ma mi vedi? Ma non deve arrivare questo? Arca! Hai sbagliato? La mia diagnosi? Stress da troppo terrore. La mia diagnosi? Stress da treptococchi. Mi diagnosi? Stress da gondola veneziana. Fobia equina. Chattereste mai con quest'uomo? Paura delle scale mobili. Se la risposta è sì... La fobia incontrata di voci dallo spazio. Potete chiacchierare di cinema con lui tutti i lunedì. Dalle 14.30 alle 15.30 su www.lasette.it slash la valigia dei sogni. A vostro rischio.